ragazze ragazzi rieccoci qua su the division 2 esatto proseguiamo a massacrare gente senza sapere il perché o meglio ce lo spiegano ma noi non sentiamo io sono vecchio perciò mi sono smutata pure io hai visto si si è vero è ma le ginocchiere però sono importanti sì vabbè ma io faccio a meno perché lei è giovane a lei servono perché sennò si rompe il ginocchio e niente siamo pronti vede sono allenata io sì sì prontissimi prontissimi metto il fucile però ecco sì e andiamo recuperiamo quello che recuperare qui cosa cosa c'era a dobbiamo dare appunto lei assegnare un punto benissimo al caffè cd al parcheggio sotterraneo ma a qui un gelato doppia panna una trasmissione in diretta gente ti collego voglia di salato salato si si è inventario pieno che quello che è un alleato ho dei nuovi contratti agente ma che me frega ma poi cosa ci fai qua non lo so ma fatti da dobbiamo andare qua noi credino ma stai all'aria aperta si metti lì ci confonde boh ma fatti sei qua sotto usce il banco ma prendi prendi tutto che è che qui ce l'ha ma non mi stia attaccato aggiungiamo fuoco a fuoco ma scusi ma lei viene da parte mia mi scusi e non funziona ma guarda che è una cosa incredibile già io avevo la doppietta è vero è vero due colpi e via doppietta proprio bang bang doppietta vuol dire bang bang doppio colpo bang bang cioè incredibile comunque che questo lo prendo con la bombetta vai quando le mie bombette posto volato basta arrivano altri secondo me no no vediamo se lo becco attraverso eh ma si è spostato dai che è che è ah qua c'è uno ferito quei bastardi ce l'hanno con me poteva andare peggio si è arrivato giusto in te si si ok ma è veramente ancora vivo questo elimina le forze nemiche vengono da qua da qua da qua sai che vengono alle spalle no apro il garage vati vati tiriamo fuori la macchina la macchina dove l'ha messa non mi ricordo non sai sono vecchio andiamo bene andiamo proprio bene ok le bombette mando le bombette stanno andando le bombette ok 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 10 10 bello 10 ok c'è uno grosso sopra dove dove sopra sopra in alto ah due in realtà bene uno è morto credo rimasta la torretta si ok è morta pure la torretta mi approfigo qui c'è un blu che potrebbe essere io non vedo nessun blu è interessante se va da qua chi è da sopra da sopra ok felice signorina lei deve avere fiducia nel prossimo guarda questo qua ok guarda che lì ha è proprio stupida ma stupida ma stupida come si fa ad essere così stupidi posto preparo lo shotgun in caso mi trovo davanti deve venire su sto arrivando sto arrivando ho i miei tempi ho sbagliato il tasto c'è un po' di gente attenzione che c'è un missiloide qui ah ecco ma l'animaccia tua che sette io guarda non so che te combino aia aia allora uno è morto dove sei oh ecco lo sto cretino ecco fatto devo ricarigare ok a posto facciamo là quello là sopra che è sceso poi è tornato su forse sì sì sale scende però ho tirato i bombetti non so se lo raggiungono sì lo raggiungono no una forse sì 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 eh sì sta però arrivando ah ah no è rimasto là vabbè vado io mi armano di shotgun è rimasto incastrato agente i trussons proteggevano delle scorte qui potresti localizzarle cioè mi armano di shotgun e invece mi sono armata dell'altra vabbè scansioniamo le scorte mi sembra un gran bel bottino non è vero agente respingi i nemici l'altro gruppo di ostili viene verso la tua posizione occhio agente occhio eh li aspettiamo a occhi aperti vediamo se funziona si si scambia guarda quell'alleato quant'è cretino io poveramente ci sono parole quello sta morendo di poco oh eh ma che braccio c'hai and ok ok ammazza quanti sono ok attenzione a destra c'è un rpg penso io se quando finisco di caricare ok ok no penso che era morto no però l'ho distratto l'ho distratto ok adesso scoppia faccio Sì, 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 sì Dove sei? Ah, ma sei andata Mi raccomando, è sempre Spericolata, eh Sì, sì, sì Ma mi sa che io Ah, sì, sì, non lo so Non lo so Pazza quanti ne arrivano Allora, qua Non c'è arrivato niente Non c'è arrivato niente, dirò le bombette L'RPG, l'RPG, c'è un altro RPG Eh, ma dove? Eh, qui a destra mia Tu dove sei? A destra Ah, ecco le... Porca Preso Ok Io sto ricaricando Con calma, con i miei tempi Eh, va bene Sono anziano Ok Ma io... Che è rimasto? Oh, c'era uno a sinistra Mi ha dato fuego, fuego Che è rimasto? Sta avvicinando Allora, c'è questo per terra Vai che gli ho preso la borsa Beh Razzo Andate, miei fedeli bombette Fatelo fuori per me Tu, incendialo Dai, dai Ah, fatti vedere Fatti vedere Madonna, questo si nasconde Ah, adesso... Guardate Oh Grazie per l'aiuto Ma figurati Prendo robe Ma figurati Ma useremo per fabbricarti Degli equipaggiamenti tattici Ma figurati Abbiamo fatto tutto noi Infatti Cioè, boh Nuovo livello Abbandona l'area della missione Perché? Eh, così c'è scritto C'è esplode tutto? Così c'è scritto Non so Cos'è? Segnava qua? Quindi sediamo? Aspetta, prendo cose io Vedo roba Eh, infatti Anch'io Allora, noi sediamo E belli Oh, sì, eh Usciamo da qui Qui, qui va bene Dove vai? Guarda qua Ah, ma tu sei là? Eh, sì Vabbè Uh, c'è una cazza di fornimenti Va Figlio tutto Ah, questo adesso Quindi De là? Eh, di là Di là Ma è rotto il simbolino? Che simbolino? Che simbolino? Il simbolino della quest È rotto Com'è rotto? Io vedo il simbolino della quest È rotto Vabbè Non fare caso È Ubisoft No, no No, no Ubisoft Non guardare a sinistra È chi? No, no Nessuno Non guardare appunto No, no Fatte affare i due Sì Non c'è impicciamo Campiamo cent'anni così Sì Noia Hop Marca agilità Hop Madonna La tua età Sì Oh Qui c'è qualcuno Eh, sì Ci blocca la via Tiro anche le bombette Oh Madonna Oh Vai mortacci Stracci tua Mandotene vai Ma guarda lo scatolone Nob Scatolone? Eh, lo scatolone Mi si è messo davanti Arriva altra gente Aspetta Ma siamo in due Siamo in due Quarti da malattina tua C'è una torretta che dà fastidio No Aia Ma porca Dai, sta fermo Eh Mazza quanto è tosta sta torretta Oh Quasi morta Morta Quando le bombette Occio che qua scoppia Aspetta Va bene Cercaci Aspetta Noi ce ne andiamo Allora Mitra Fucile Allora Che ho preso Oh, questo è figo Niente però Niente via C'era C'era una volta Battudona Ma Cassa shade rilevata I trussons hanno fatto deragliare un treno da quelle parti E poi l'hanno ripulito Si ma C'era una cassa di tecnologia shade a bordo L'hanno trovata loro Eh ma dove si passa Dove si passa Oh Si fa giro di Beppe intorno a reale? Ah, di qua, di qua Non conosco Oh Oddio 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 Abbassati Ma perché non sei Aspettate un attimo State buoni Buoni State buoni State buoni Aumento il livello maestria Dai Mazza il danno che vi faccio Ah Ecco il viola Il violaccio Dov'è? A sinistra Due Ok non vedo Ok Roma terra Lancio una bombetta Su di te si Non lascio la forza Bravo vieni verso di me Che è successo? Eh una è saltata in aria Letteralmente Eh così Così deve fare E' finito Un Offa non si fanno Eh dovevo lasciare dentro Non si fanno vedere Oh Va Vabbè Ancora non ho capito come si lasciano le granate Mi ricordo Con freccia Sinistra Indicatore vicino Ce n'è un altro viola eh Sinistra Dov'è? Ah Ma mi sa che è morto Forse Abbiamo fatto una strage Come al solito Dove passiamo noi non cresce nessuno Neanche l'erba Pazzate Senti che musica evocativa Indicatore vicino Eccoli là Capito Allora Ancora queste torrette Madonna Una torretta di fuego in acqua Più Va Come in acqua? In acqua Mi sta in acqua Allora Bisogna fare fuori Il meccanico Con la torretta Uno mi sta facendo fuori a me Adesso mando le bombette Sistemare questi a sinistra Ci sentite da sterecchi I mortacci stracci vostri Ma La torretta? Eh L'hai messa sott'acqua Più o meno No no La loro Dico Non funziona Sta sparando a loro Si cosa? E' un po' Da Cua Cua Ok In caccio il bersaglio Olè La corazza è quasi a zero Bravo Sparate sui piedi La bombetta Ma era la mia granata Quella Ah bene bene Pensavo che la città Stava sparando a lui Ogni tanto le lancio Giusto per consumarle Io riesco a lanciare Bravo Ben ciampato Bene Fammi vedere Di qua Ah E' tasto sinistro Eh Eh no 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 Ok La cassa è vicina Agente 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 Quanti ne vuoi Attenzione Ciao Siamo qui Ah cos'è che ho preso Dei colpi Ho preso dei colpi Elettrici Ma Dai Sì ma hai visto Ho lasciato le bombette Sì ho visto Ho visto che è andato addosso A un soldato Dai l'ho L'ho elettrizzato Ma sarei fottuta te Ma che c'è una torretta qua Due palle Ma guarda dove sta questo Ma attento che ce n'abbiamo uno a destra Eh lo so Ma non riesco a Oh No l'ho presa Meccanico Attenente il Bennett Madonna Che sangue Madonna Che aggressività Signori Che aggressività Tiro tutto Metto tutto Non vedo niente Vabbè Ti do un rinforzo Un rinforzo Ok Un po' di vitamine Un po' di vitamine Segnali critici Segnali critici Ah sto morendo Porca pò Eh Cura di volete però Non me ne ho accorto Eh no La granata non vale Non vale mica Ma morirei te Gretino E non ce la devi avere Uno solo Non avete perso Basta torretta Ok Fuori in altro Sto cerchiando di buttarla giù Anch'io Ma c'ho i nemici Che mi fanno il giro di Peppe Intorno alla Reale Devo pure coprire Io non conosco Però sto Peppe Sto Peppe Peppe È quello che fa Il giro intorno alla Reale Eh sì Ok Non sono di zona Non conosco No Porca Oh Quello continua a riparare la torretta Ha rotto le barri Eh Sto cercando di romperlo Eh Mi stanno rompendo loro però Fa una corazza Eh dai però No Sono tutto il fuoco nemico No Grazie Non mi posso manco curare Che ho tutte le cure Eh io ne ho due Però Se non ci teniamo Se non ci leviamo Quella torretta di mezzo Oh basta Sistemare la torretta Fai qualcos'altro La torretta Io l'ho sfasciata Vorrei sfasciare lui Pure Quello è andato Ok lui è sfasciato Occhio Eh Ma che c'ha perso Morto Allora ce ne stanno due Ti tiro le bombette Le bombette vai Pensateci voi Dai Ok Finiti No Ce n'è uno Ce n'è uno Sta scappando Non so Ah ecco qua Che scappa Sta qua Deo Grave trauma rilevato Ma io ho struito Oh ma dove sei Vabbè Aspetta Ma basta Questo è uno Di quelli Ma no Tranquilla 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 Tutto sotto controllo Ecco Ah ok Bene Cassa shade Meno male che i trussons Non hanno aperto la cassa Le serature devono essere Piuttosto robuste Comunque riportala Alla base appena puoi Agente Ma a me sembra Leggermente aperta Però Guarda ci sta anche Un quadro prezioso Ma giusto leggermente Ma E l'ho aperta io adesso Grazie Abbandona l'area Della missione Stiamo abbandonando Vabbè però Appena esci Eh aspetta Andiamo via Aspetta C'è già un conflitto a fuoco Io boh Eh datevi una calmata Eh Allora Dai Ed è anche rotto Dove dobbiamo andare? Avamposto C'è un avamposto Qui Dov'è? Ah è di là Avamposto Di là dove? Vai tu Che io ti raggiungo Ah ok 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 Te seguo Bravo Battuglia Eh Qua penso Area control Sì Sì Qua Aspetti 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 Ando un po' avanti Aspetto Io lancio una granata Posso? Vada Dai Guarda come vanno a fuoco È spettacolare questa cosa È veramente spettacolare Bravi 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 tutti Bravi tutti Bravi tutti E ricarica Dai Dai C'è la bombarola Ok Va bene C'è il capo C'è il capo C'è il capo C'è il capo Andate I miei fedeli Bombette Mi metto qua io Ma che fa Sta cretina Io Aspetta Che mi miglio Ah Un'altra torretta Oh Distrutta Ok Diamo gli alleati vicini Si c'è Danno la mano A In viaggio A Babo Morto Come vado a questi Adesso Delato Eh Madonna E' la mia mitraglietta Che non funziona Incredibile Vabbè Io lo so Dov'è il capo Ah Difendi D'avamposto Il capo è morto Sopra Sopra Sì sì Allora Ci dobbiamo mettere sopra E difendere sotto Via Giusto? Sì Yes Stai lì Un altro capo Altro capo Dai Che spara questo Niente Perché è quasi morto Vai Dov'è? Dove vai? Dove vai? Scappa Non è nato Tu non stai bene Ciccio Guarda come rotola Hai visto? Nonostante la pisante corazza Ok Olè Conquistato Dai Rifornimenti Andiamoci a prendere Rifornimenti Grazie Davvero Grazie di cuore Fantastico Grazie Grazie di cuore Grazie di cuore Saccheggia Cassa Prendo tutto Prenda tutto Ok Ok Adesso Siamo vicini A quest'altra missione Da questa struttura Ristabiliremo la connessione Alla rete satellitare Della divisione Ok Civili In pericolo Mi segua Mi segua È una missione della storia? Sì Beh adesso abbiamo un attimo Livellato Di qua Sede centrale Ente spaziale Il livello del nemico 14 Il più 8 del nostro Però Dovremo poterlo fare Dal quartier generale Del nostro Ragione in sala di controllo Posso darti istruzioni Da qui Madonna Ecco vai Bravo Viola 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 Cos'è Schiuma da barba Scritto Dobbiamo entrare là? No Non lo so Guarda quante biciclette Eh ma perché Non ci danno un Un mezzo Un mezzo Uno pattino Comunque che peccato Che The Day Before Non è uscito Cioè è uscito Ma non era Madonna Ma quella era La truffa È stata una truffa Mamma mia Una super truffa Se era Se era vero Mamma mia Tanta roba era Ma dove Ma dove si entra? Infatti Non era di qua Tu? Qua no Ah forse è di qua Forse No No Ma forse è laggiù Dove stavamo prima Eh Abbiamo fatto fuori il boss Pss Mini boss Noah Ci deve essere qualche entrata qua Scusa Sede centrale spaziale Sì Uscita dall'area mission Qua Ah qui 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 Guarda Hop Ah Allora La Guarda come camminano Sicuri di loro Fritto misto Dai eh Anche le bombette Fritto misto Fritto misto Eh magari Un bel fritto misto Mamma mia Condito con che? Olio o limone in sale? Eh con cosa la vuoi condire Lo so Lo so Che so Se ti piace qualche salsetta No no Io non sono troppo da salsa Ah Magari giusto La maionese Eh Bona Ma le altre robe No no Comunque mi è venuta una fame Eh appunto Cioè io non lo so Fai apposta No Eh che mi viene fame Che devo fare Scusi qui stiamo combattendo Eh viene fame Vabbè è normale Corri di qua Corri di là Corri di là Non vuoi uno snack Non so Prendi vita snella Vita snella Ma no Un bel kinder bueno Kinder cereali Che ne so Kinder maxi Kinder fetta al latte Sì Eh anche Fuoco sul nemico Fuoco su di te Eh infatti Poi tutto questo umidume Cioè io Sta venendo anche voglia di cioccolata calda Nonostante il caldo Cioccolata calda No Sì Un dispositivo elettronico rilevato Nonostante il caldo Elettronico rilevato Da dove sta Oh non c'è Oh ma vai a saltare Non salta Vabbè rimasta qua Guarda guarda Questi pensano di fare un'imboscata Invece No È la divisione Dai l'allarme Dai l'allarme Dai l'allarme Camera Camera La polizia È a secco Devi rimanere Ma c'è l'RPG qua dentro Dov'è Ah eccolo Mado Mi ha preso prima Grave trauma Granico Il mio Dai Su Oh è morto Oh Si è andato da solo Bravo resta in copertura Tu Io ho fame Ma io ho una carbonara Ma la farei veramente Allora Eh 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 Ho fame Ho fame anche a me È una matriciana Forse una matriciana Anche Ma anche un risotto Anche un risotto Ah un risotto Lo manierei Questo si è lanciato Si va Spendete l'allarme Su Infatti C'è più nessuno? Ah no Si No ecco Un po' di fuoco Un po' di fuoco Ah Sai che Madonna Questa Mi chiesta Assistenza medica Immediata Mi devo spostare Mi ha preso T'hanno preso? Ce n'è uno Eh c'è uno qui Dove 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 Sopra Sopra Sci tua Mi posso procura manco io Eh niente E tanto mi avrebbe spazzato Mentre te curavo Vabbè Attaccate pure dove pare E così Rimaniamo così Dimmi che stavi a dir Assai La Ubisoft Ha tolto a chi lo possedeva The crew Ah dai Non lo sai Come mai No non lo sapevo Eh perché Hanno deciso che È un gioco D'abuso Noo Hanno deciso che Siccome è un gioco Dove si può giocare online No E però Devi essere sempre connesso Ai server Ubisoft Per giocarci Anche se giochi da soli Però Siccome han deciso Di chiudere i server Hanno tolto il gioco a tutti Capito E non sa un po' Cioè ma penso a chi l'aveva pagato Io l'avevo preso Quando lo regalavano Ah ah Però Cioè non è giusto Scusa Oddio Ma questo vale anche su Console Non solo digitale Ah si Eh Se i server li hanno chiusi Eh beh certo L'hanno chiusi per tutti Eh Però scusa Se io voglio giocarlo Fla A me che me frega Dei server Per esempio Cioè il gioco Io non l'ho mai giocato Però Potrebbe funzionare Anche offline Cioè Certo Eh Per questo la Ubisoft Mi sta un po' Sulle palle Eh Vabbè Ubisoft Ormai Conosciamo tutti Poi anche per gli Assassin's Creed Eh Hai capito Io lo so Molto Beh Sì 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 Cioè ha rotto veramente i coglioni Abbiamo capito Abbiamo capito che a Leo Che sta sulle palle La Ubisoft Come dagli toto Però Vabbè Sono qua lo stesso Beh l'IA Devo dire Che In tutti In tutti i tipi di giochi Ubisoft Fa veramente Cioè Acqua da tutte le parti Eh vabbè Ecco Razzo Oh M'ho ribruciato Grazie Ok Mi curo Sono finiti? Mamma mia Si può spegnere Sto allarme? Sì Dà un po' Fastidio Oh forse sono finiti Forse Forse Mamma mia Spegni 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 tutto Spegni tutto Siamo tracciati Ci stanno tracciando Raggiungi il terzo piano Ok Faccio il rifornimento Stacca 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 Non lo conosci il video Quello di Topolino Ci stanno tracciando Sì Eh che Come si fa Non conosce Chi è che non lo conosce? Allora Qui Presumo Che ci sia Altra gente Che non si è resa conto Di niente Di quello che è successo Di sotto No perché sono imbecilli Probabilmente Eh infatti Appunto Stiamo parlando Di IA Ah no Forse sì Stupida Ah sì Beh forse 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 Dai È bella gente No Va come è volato Via Ti stanno facendo neri Ti è Che cazzo Che cazzo Che sta parlando Eh il violetto qua Ah il violetto La violetta Ma Cos'è? Chi è che Chi è che mi sta a sparare? Ricarico Ricarico Riguardo le spalle Spazzato Ma Leo Non ti sei accorto Che ci abbiamo qualcuno Ma chi? Ah qui Ehi Eh Ma non l'ho preso Di quello da sola Ok Ti avvicino Chi è? Ma è uno C'è qualcuno che si è incastrato lì a sinistra Ecco Disincastrato Ok Mamma mia Comincio a sentire un odorino Io no Purtroppo No Mamma mia Di là Di là Da me qua Stanno a cucinare Cazzarola Cazzarola Voglio venire anch'io Vinga Vinga Eccoli Questo ride Ha il fiatone Dai Nuovo livello Attenzione Attenzione Facciamo progressi Oh ma il fuoco Non lo senti? Cretino E magari è Damianto No Ok Mamma mia Che soddisfazione È stata orretta Così Oh Ti do un po' di rinforzo Un po' di rinforzo Sì Grazie Di tanto me lo ricordo Eh Quando te lo ricordi Insomma Vero Non ho capito Però se sia così incisivo Allora scusate un secondo Ragazzi Scusate un secondo Eh C'è un po' di rinforzo Tutto lo stesso Ma no Ah ecco perché questi sono viola Capito? Fotti di due Tre quarti Da palazzina tua Magari non abita In una palazzina Eh vabbè La villetta Quello che ha È un po' di rinforzo È un po' di rinforzo Ormai è da buttare Sì 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 Ecco Avevi Una biretta Avevi sete Ah ok Eh sì Con la biretta Se mi era meglio Ok Terminale disconnesso Col terminale principale offline Ci sarà del lavoro extra da fare Prima di tutto Trova un computer funzionante Scatola nera Vai Eccolo la computer Consonante Attiva Attiva Dovremmo stabilire Una connessione manuale Ci serve una buona antenna E una radio ancora migliore E qui ci sono entrambe Vai e allinea le parabole Dovrebbe esserci una console Alla base di ognuna Qui sì Non si sono accorti di niente Vai Ma è c'è te Infatti Se c'è un po' di gente Un po' tanto Ma giusto Appena un attimo Ma poca Guarda C'è il primo Che è proprio qui sotto Se vuoi Dov'è Vieni qua Qua Torna dietro da me Qua sotto Vedi Entra sto cupolone Cupolone Dobbiamo buttarci da qua Cupolone Occhio C'è una dentro Mando le bombette Ma io ho beccato la borsa Dunque secondo me Dovevamo stare in alto E lancia la granata Se proprio devi Ok Coprimi 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 E ho finito i golpi Oh no E non vuoi mai fare Il ritornimento No nel senso Nel caricatore Nel canna Occhio dietro Avanti E di lato No Dovevamo andare su Dovevamo stare su No No E te l'ho detto Eh no Eh no Vado su Vado su Bravo Perdi tempo Mi curo Mi curo Ah si è tornata su Eh si Mi do cura Oddio guarda questo Arrivo Con i miei tempi Perché sono vecchi Ecco Eh vabbè Ma allora ce la vede con me Ho un po' di Ok Fuori l'altro Non vedo Ah là Oh A rispalle No No Dove stanno Sotto Ok No a posto A posto Andiamo Non c'è più nessuno No Allora Cosa dovevamo fare Continuo questo Vai 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 Allinea 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 Sì Ce ne abbiamo altri due Da allineare Questi sai che servono A vedere Disney Channel Non c'è più Disney Channel Non credo Disney più Scusa Però Non lo so Amazon Prime No 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 sky Non lo so Ma tu te rendi conto Che Amazon Nonostante fagli l'abbonamento Adesso ti fa vedere La pubblicità Sì vero 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 Visto Scandalosa 2 euro al mese Ti rendi conto Una cosa scandalosa Veramente Ce la fanno proprio schifo Che non ci puoi fare Cioè ma se io pago il Prime 50 euro l'anno Ma che mi fai Ma che mi fai vedere Pure la pubblicità Tra l'altro Tra l'altro è aumentato Perché prima era 36 Grazie Eh Allora Vabbè Vabbè È aumentato da mo Eh sì da mo Ma a proposito Io ho visto Proprio di recente Fallout È bellissimo Bella Bella Molto bella Bello Bello Molto bella Vedrò che fanno la seconda Stagione Ebbè appena ha fatto la prima Stai calma Se tu intrattieni quelli Io vado a attivare questa Intrattengo qua Ballando Sto girando la parabolica Ma lì? Ma è morto Sì vediamo un Disney più in channel Sì Arriva qualcuno Vabbè Coprimi Ok Dov'è? Dov'è? Morto Ma Morto Ce ne stanno due qua Ok Ok Io ho recuperato anche una Kit medico Ce ne manca uno De là E c'è anche gente Sento dei passi Sì Sto per morire Eh Se vai avanti Se vai avanti così Però Eh Volevo riparare Sto morendo anch'io Aspetta No non muoia Che tocca riconoscere la taglia Ma non ha preso Cosa che mi dà la vita Anche da Da distanza No Forse mi conviene Aspetta 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 C'è uno qua Sto per morire Rallento L'emorragia Rallenti Rallenti Ok Grazie Mi è andata Delusso Proprio Bombetta Perché ce n'è uno Pure qua Cacca Ce ne stanno due Qua sotto Una scala Quale scala Quale scala Dove sono io Tento Perché ti no Un po' di schifezze Sì E baffa al lovo Ma mi dici Come hai fatto Porca Stiamo riparata No Sento che c'è una schiumata Barba in uso Aspetta Aspetta Copriti copriti Io tanto rallento L'emorragia Ah ma questo Mizzica No Aiuto Rallento l'emorragia Eh mi sa che qua Eh sì No Questo qua era viola Porca Che d'aiuto Che d'aiuto Vabbè Tanto adesso ci manca Solo questo Ci manca Ovviamente L'ultimo Sperando di Non Ma no Adesso ci manca No Ma Agente Usciso Usciso No Da capo Ma no Tutte e tre Eh sì Allora Facciamo così Aspetta Eliminiamoli prima tutti Eh Quello che Guarda Li prendo Ok Ho preso la borsa Uccidiamoli tutti Un po' due bombette Ok Potremmo fare una cosa Vediamo se funziona Aspetta Non attivare la Parabola Ah ah Perché secondo me Sono ondate Ok Eliminiamoli tutti Ok C'è qualcun altro Sì Allora Tu vai Non c'è più nessuno Adesso No io posso andare a questa qui Eh allora io vado Vado quella giù Quella giù E facciamolo insieme Così facciamo due Un colpo solo Ok Come sei Come sei Andiamo Sì Ho inviato le coordinate Delle parabole Con l'Isaac Non ci vorrà molto Ad allinearle Dovrai comunque Calibrare entrambe Questo renderà Tutto più veloce Oddio Vai vai Insisti 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 Ok Ho fatto Me do Me do Pur io Andiamo alla terza Si aspetta Opla Dove sei Caraca Ok Motti tutti Mi do De là Andiamo alla terza Quindi Sono già alla terza Ok A chi ha lanciato Aranciata Aranciata Madonna Ok Via 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 Eh baffalolo Ma quale Neutralizzato Rallento L'emorragia Ok Bombetta E ora E ora Devi morire Bombetta Ok Solo due Bombette Sono scarica Di tutto Ok Questo è morto Che altro c'è? Penso De sì Vado? Vado Vado Stanno arrivando Stanno arrivando Mi levo Mi levo Mi levo Mi levo Mi levo Mi levo Eh ma non ho sparato Eccolo Ok Un altro Sezione a destra Ce n'è uno Proprio qui al fianco Ecco Penso E uno là Intanto me li fornisco Così mi rivederà le bombette Giramento Figuro Piazzo 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 Lancio le bombette Vediamo se ci arrivano Sì Ok Ok Altro qua Ok Vado eh Sì Rimanzo ancora Ora dobbiamo trovare una trasmittente Per potenziare il segnale Oh c'è quello con lanciagranate Attenzione Ah Porca Aia Mi ha preso Mi ha preso in pieno Porca E vaffa E vaffa All'uovo Va Aspetta Vedo una Non c'ho niente Per curambe Bene Bombette Au Dimmi che non sei morto No Ok Occhio perché alle spalle Sta venire qualcuno Un viola sta arrivando alle spalle Ok Se ne è riannavo Ma Non sto facendo nulla Vorrei eliminare sto viola Cioè sono intreso Non mi ha preso Esagerato Porca Mi scusi eh Cosa fa Venga su Ho preso lo zaino Oh Finalmente Faccio fuori Accidenti Attenzione questo c'è Gravi trauma Capito Vai Bombetta Quanto è corazzato Questo qui Ok Oh Chi c'è rimasto Sono quello corazzato Sì Ma è super corazzato Inizia Oh non ha più Meno male Lui Mi piace Prima che il governo evacuasse il complesso C'era una radio UHF che usavano per i test Dovrebbe essere ai piani inferiori Come per stare i livelli inferiori Stiamo giù Eh qui ti fanno fasso e giù eh Amica Ci hanno preso per l'UPS Sì Non ho la cosa Aspetta Questo ogni tanto In passato me l'han detto Quando vengono a consegnare la merce Ah non ho il facchinaggio Mi spiace Ah e quindi Vabbè ma mancia per cortesia Lauda mancia Il taglio pieno Cheggia Cheggia Che paura che mi avete messo Regà Mamma mia Chi? Stavo che era gente Sì Si manichini qua Guarda quanti Guarda qua Eh altra gente C'è una cosa C'è gente Altra gente Metti in sicurezza L'area Hai capito? Hai capito? Eh dai Questo è Sfuggente Questo giubbotto Ma fai cagare se No No è il suo Mi sa Eh È rimasto da solo È rimasto solo E mo che file Eh mi spiace La frequenza ultra alta Rilevata Quindi Quindi Oh c'è una piscina Seguenza E poi Dove ci andiamo a nascondere Perché Sto sicura che arriva Un'altra ondata No? Eh Ecco De là Ecco Ecco ci stanno a sparare Ok Ma non ce l'ha la vita Sto modulo Cosa devo scortare Cioè scusa Cioè meno male che non ce l'ha la vita Se no La bombetta Tira Sfuggatela da solo Oh ma chi è? Ah ma siete Che stava spaccato Tanto meno male Non c'è il tuo tuo amico Sennò sai Che casino Aspetta Allora attiva Radiazione Rotazione No radiazione Attiva rotazione Aspetta Fatemi curare No Se no Casino Grave trauma rilevato Ma guarda se quella torretta funziona Oh è proprio Una peragottara Vai Can you explode lì? Ok Oh Ok Mi ha dato le bombette Ok Oh c'è il lanciarazzi Dove è? Madonna Sei morto? No non mi ha preso Cioè mi ha preso ma non mi ha ucciso Adesso mi ha preso ma non mi ha ucciso Ancora Ma forse perché è morto Ah ecco mi ha preso un altro Ecco Dove sei tu? Ah là Aspetta Fuori uno Ne manca uno No Stai giù Stai giù Stai giù Bombetta Ok Ok morto Ah Era l'ultimo mi sa Uff Ok Allora quella è andata nella location Sì sì Prendo robe L'abbiamo scortata benissimo Scheggio Sì È arrivata prima lei e poi noi Ok L'altro scelto qua Cerca e sviluppo Decontaminazione Ma cosa vuoi decontaminare? Ok Ma siamo già decontaminati Ok Beh qui Ma pronto Che è successo? Sono stato disconnesso Eh sì Vabbè d'aspetto Aspetta D'aspetto Sì Continua Vediamo se Ok Ok Sei in gruppo Sì 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 Benissimo Vai Qua Raggiungi la sala di controllo Posso darti strumenti Vai Tira la leva Non so perché ogni tanto Ma Ha fatto pure a me Metti in sicurezza l'area Ma no Ma no Stai giù Ma no Mix Oh ma C'è uno con lanciarazzi Forse Sì Via Ah l'ho preso Ok Io Navigo ai fianchi Tento di fare fuori quello con l'RPG Oh 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 Ok Sotto Così E di fatti ti sorprendo caro Eh Arrivo Ma sei te? Sono io Non sei te? Ero un nemico Ma hai detto così? Eh ma stavo arrivando Pensiamo che eri te Eh ma non eri te però Ha le gambe Ha le gambe Dov'è? Madonna Grave trauma rilevato Ma no Ma perché si spostano? Eh Quando mi hai visto? Qui Dai Rimuovi il trasmettitore Vai Vieni rimuogli il trasmettitore Perfetto Questo tirerà fuori la trasmettente dal modulo E la connetterà al resto del complesso Poi potremo collegarci ai satelliti della divisione Hm Mo Buio Oddio Ce l'hai una boccia? Mol colotto Qualcosa Niente Ah sfondano forse Ma no Ma dai Ma io non ho più C'è Junior Junior Qualcosa Eh vabbè Junior Qualcosa Penso che ci farà male No Junior No E' lì tra le fiamme E' ignifugo Ah è ignifugo Bene bene Ma guarda Sta lì bello comodo Ma io da qua non gli posso Fa proprio niente Il fatto è che Non gli tolgo niente Neutralizza Seggente capo Steve Junior Quiroz Quiroz Beh io qua cosa mi marcio Ecco adesso sta andando a fuoco Fa piacere Adesso sta scendendo Attenzione Attenzione che arrivano pure Gli ho rotto missile lancia granate Bene bene Immune Che porti immune Immune proiettili Immune proiettili Ma scusa Ma dai Sei immune proiettili Ah benissimo grazie Sta venendo verso di me Spostati spostati Io ho tirato Ecco dai Fuoco Fuoco Ho tirato fuoco Pure lui Forse avrà dei punti Debole Beh io ho tirato il fuoco La granata Dove sei Dove sei Dove sei Sto qua Sto qua Sto qua Sto qua Vicino a te Occhio però che sta avvenendo Dai è quasi morto È quasi morto Concentrati su lui Se vuoi se vuoi No no Ma tanto manca Manca Ci manca Ci manca Io ci credo Ci credo Che non ha mira Non ha mira Ricchiesta assistenza medica Ecco Agente fuori combattimento No non mi dire Aia Devo curare Parametri vitali assenti Eh parametri vitali Mi sono sacrificato Vabbè fa niente Aspetta aspetta C'è un po' di fuoco Un po' di fuoco Rianima Frigati gretina Vabbè sta andando a fuoco Eh È troppo vicino Troppo vicino È quasi morto però Capito? Eh però non vale così Eh io mi riposo Intanto Sì Anche perché Ci stanno pure i compari suoi Capito? Mhm Adesso Troppo vicino Troppo vicino A me Ma va c'è di tre quarti Dalla palazzina tua Eh che è troppo vicino A me Mariani ma Madonna questa Proprio eh Perché sei colpito Da solo Aspetta Madonna E' morto? No Ma crepa tu E' morto E' morto Ah dobbiamo far fuori pure gli altri? Eh si Eh si Ok quello è morto Chi altro c'è? Ok attenzione che c'ha Uno come sa che c'ha un cecchino Aspetta Vi tiro le bombette Non lo vedo Caracca Ok 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 è morto Ah ho altri due Ah quanti sono? Che ne so Perché uno sta salendo Ah uno solo dai Ah no eccolo Ok Mortacci Si mette per terra così uno via meglio Capito? Ok è morto Ok è morto Basta? Eh no Eh madonna Ma dai ma il boss l'abbiamo ucciso ragazzi Che dove fa? Cioè arrendeteli Eh Eh Non siete c'è una croce sopra? Fate venire una ragione Eh Cambiate lavoro Ok Forse altri due O uno Uno qua Ah Dov'è? Ah qui Ok Oh Finiti? Prendi Prendi S'azzeccano come le cozze Io non lo so Io vorrei avvio qui eh Vedi 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 La rete satellitare è operativa Oh Missione completata Ben fatto agente Abbandona l'area della missione Comunque sono stupidi Bastava che distruggevano sta scatoletta Ha fallito tutto Eh 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 Hai Adi Là Ok Dov'è che si esce? Scusa Ah no De qua De qua De qua A me mi dice De qua Guarda Guarda De qua Mi dice Qua Vieni qua Ah pure a te Ti dice De là Si muove Vabbè O di qua O di là Allora Era Era uguale Mi sto affumicando Vadi 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 Sul tetto Sul tetto E poi se buttiamo di sotto Con la corda Con la corda Ovviamente Con la corda Ah Dai garage Ah Niente Oh che luce Mamma mia come spara flash Che cos'è? Ok Abbiamo ripristinato La rete Si Fatto la nostra buona azione Si Siamo a livello Siamo a livello 14 Direi che è più che sufficiente Però Non vedo Non vedo altre Cioè Missione secondarie Sì Ma di livello Più alto Il nostro Beh di uno qua Bello 15 Insediamento Il campus Oh vabbè Io tornerei Tornerei alla base Tornerei alla base Torniamo No non era qui Era Dov'era Al coso dici no? Alla casa bianca? Si No qua c'è scritto Torno al teatro Sì vai Torniamo alla casa bianca Eh chi c'è qua? Bene Stava a posto Grazie Lei Oh Ho aspettato Una sfida Sì sì Va bene Va bene E ha richiesto supporto immediato Abbiamo fatto passi enormi Dopo l'isolamento La casa bianca Non è mai stata così sicura Il seminterrato È stato trasformato In officina Ci sono trapani Seghe E altri utensili Meccanici e artigiani Li usano per costruire Nuovi equipaggiamenti Munizioni Componenti E attrezzi recuperati Possono potenziare Gli equipaggiamenti Dovremmo mettere insieme Uno staff Per sfruttare tutto al meglio La rete Shade È quasi pienamente operativa Speriamo si possa Riconnettere al network nazionale La casa bianca Comincia a sembrare Un luogo di speranza Più che un simbolo Di quanto eravamo caduti in basso Hai capito Hai capito Abbiamo potenziato qui Il coso La casa bianca La casa del presidente La casa del presidente Sì Cioè la nostra Sì Abbiamo occupato abusivamente Sì 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 Mettete qua Va 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 che roba Ecco Va bene Direi che abbiamo fatto Dove fai? Cosa fai? Eh no Mi devo Sto gioco C'ha una visuale A 360 gradi Tutta sua Abbiamo fatto Il possibile Domani Faremo di più Sì Sempre di più Sempre di più Sempre di più Sì 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 Va bene Ciao a tutti Ciao Ciao